Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La questura di Matera decide di scendere in campo? Sì, noi stiamo scendendo in campo oggi nell'ambito di questa giornata importantissima, ma già dal 2016 siamo presenti nelle piazze di Matera e della provincia nell'ambito del progetto Camper. Nel 2016 il Dipartimento ci ha individuato insieme ad altre nuove questure come questura pilota per la promozione di queste attività nell'ambito del progetto Camper. Adesso c'è il progetto Questo non è amore e scendiamo nelle piazze a contatto con la gente per sensibilizzarla su questi temi importanti affinché non avvengano più episodi che stiamo sentendo anche nelle ultime ore. Ecco, episodi affinché non avvengano più, ma qual è la situazione attuale del territorio di Matera e provincia? Allora, i dati ci dicono che le fenomenologie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi degli atti persecutori sono in lieve calo a livello di denunce. Però la guardia deve essere sempre alta, tant'è che noi nell'ultima settimana abbiamo eseguito quattro misure, tre agli arresti domiciliari e un divieto di avvicinamento. Dottoressa, quanto è importante il consulto da parte di chi ha ricevuto una violenza con una figura femminile? Beh, credo che sia importantissimo perché potrebbe essere un inizio di una complicità che magari tra donne sicuramente può evidenziarsi rispetto invece a una figura maschile dove si possono avere più reticenze, più difficoltà anche ad esprimere quello che è il sentimento, quello che è praticamente la vera violenza subita anche da un punto di vista dell'intimità perché molte volte il discorso non è solamente una violenza fisica ma è anche una violenza psicologica che colpisce la dignità della donna e questo non può accadere. Per cui il fatto stesso di avere una figura femminile è quasi una figura rassicurante che quindi ti permette di poter esprimere tutto quello che effettivamente tu in quel momento vuoi dire e soprattutto di, come posso spiegare, di instaurare un rapporto di solidarietà, proprio di supporto per aumentare la forza e la capacità di reagire a questa situazione e a volte anche di venire fuori.